Ciao amici del fan di Alto Gradimento Questo è un nastro originale del 1976 Acquistai questo apparecchio C2001 della Grundic nello stesso anno E con questo nastro registrai Alto Gradimento Alcuni spezzoni, non le trasmissioni complete In questo caso possiamo ascoltare, anno 1976, il ritornello di No, non è la BBC No, non è la BBC, questa è la Rai, la Rai TV No, non è la BBC, questa è la Rai, la Rai TV Amore, amore, devi votare per la tua sgarambona Ti ricordi quando mi buttavi nel sedile di dietro della tua macchinona, nera, nera Ora vota per me, ho il petto grosso, grosso, nero, nero, brutto, brutto No, non è la BBC, questa è la Rai, la Rai TV No, non è la BBC, questa è la Rai, la Rai TV No, non è la BBC Uè, che volete, come va? Insomma, sì, perché mi hanno convocato qua, no? Insomma, c'è stata la telefonata ufficiale dal boss della radio Mi ha detto, signor Catenacci, se lei vuol partecipare al nuovo programma Si deve arreccare immediatamente presso la sede della radio di Via Giago Insomma, io sono arrivato là con un gruppo leggo che non riesco a parlare Insomma, mi ha detto, lei deve andare di fronte al microfono e deve dire due parole Dire, votate, votate per me, per Ermanno Catenacci Uè, mi raccomando, votate, perché se no le storie del Duce io non ve le racconto più E poi vi mando impaurati, vi da quattro manganerate Votate per Catenacci, per la galina, vi saluto